Oggi con Icarus Tech assisteremo all'anamnesi perfetta dello sportivo, alla giusta tecnica per prevenire gli infortuni e ad un metodo innovativo per tornare alla pratica sportiva. La paura più grande per uno sportivo è farsi male, ma oggi grazie alla ricerca si può guarire in tempi rapidi anche da alcuni gravi infortuni, impensabile sino a non molti anni fa. Le nuove tecnologie sono tutte quelle procedure, sia mediche che chirurgiche, innovative che permettono ai pazienti di poter trattare patologie che possono essere sia in ambito ortopedico come l'artrosi, sia in ambito traumatologico sportivo come fratture, come lesioni legamentose, con tecniche magari meno invasive e che permettono un recupero più veloce. Il fisioterapista fa un'anamnesi generale del paziente, i traumi che ha avuto, e va ad identificare quelle che sono le disarmonie di postura dell'atleta che vengono poi confermate sull'attrezzo che potrebbe essere il tapirulano, la cicletta. Più l'appoggio è simmetrico e si creano i diagrammi di forza sul piede in una data maniera, più la performance migliora. A supporto della riabilitazione fisioterapica e della terapia farmacologica, oggi esistono speciali dispositivi per un altro tipo di trattamento, come la terapia vibrazionale, grazie all'impiego della nanotecnologia. 1997 è una data importante perché arriva una richiesta dall'esterno, da parte di un'azienda, che praticamente aveva il problema di tonificare i muscoli di alcuni dipendenti che entravano a lavorare in assenza di gravità. Notammo che per immediatamente recuperare il tono muscolare venivano messi per un quarto d'ora, venti minuti, sulle pedane vibranti. Allora da lì emerge l'intuito e dice però pensa a creare qualcosa di portatile, piccolo, che possa sostituire queste vibrazioni. L'intuito è quello. Parliamo quindi di nanotecnologia. Là dove ci sia 900, 850 milionesimi di millimetri oltre, parliamo di nanoparticelle. Il device in pratica trasforma il delta termico della pelle in delta meccanico. Usa la termia, il calore della pelle, per essere frizionati. Cioè questa frizione continua fra di loro autoproduce questa nanovibrazione impercettibile. Ascoltiamo adesso la storia di una giovane campionessa costretta a rinunciare ai propri sogni a causa di un grave infortunio. Avevo cinque anni e mezzo quando mi hanno portato i miei genitori sui campi da tennis. Poi è proprio nato un amore. Ho iniziato ad allenarmi sempre praticamente. Quindi intorno ai 19 anni ero 266esima nella classifica VTA in singolo e 290 in doppio. Poi purtroppo ho avuto un infortunio alla spalla. Diciamo che la mia carriera agonistica è finita lì. Ecco perché nel campo della prevenzione anche i maestri usano tecniche alla vanguardia per preservare la salute delle loro giovani promesse. Cioè la prevenzione è alla base di tutto adesso. Loana è stata preclusa la sua carriera da un fortuna allo spalla. Faceva i pesi, hanno usato i pesi, hanno una forzatura. I maestri hanno cambiato la metodologia dell'allenamento. Sono cambiati gli attrezzi, è cambiata la velocità. È molto importante la preparazione atletica, la preparazione mentale. Ci sono molti più componenti rispetto a prima che influiscono nella performance dell'atleta. Nel tennis secondo me l'infortunio è prevalentemente dato da un gesto tecnico sbagliato. E noi dobbiamo lavorare benissimo sulla tecnica. Chi ha una buona tecnica non si fa male. Non si può tornare indietro nel tempo. Ma si può fare un salto nel futuro per tornare a vivere vecchie emozioni. La passione per il tennis era rimasta. Dopo aver finito l'università ho deciso comunque di dedicarmi all'insegnamento. Perché comunque appunto c'era questa passione che volevo portare avanti. Sicuramente lo sviluppo della tecnologia che in questo momento mi permette di giocare se fosse avvenuto prima magari la mia carriera sarebbe stata un po' più lunga. Adesso con lo sviluppo della tecnologia si può andare a giocare fino a un'età che prima era impensabile. Aspetta lotta! Outro l'università ho deciso di vincere. Mai diseguire!